Ben trovati all'appuntamento con l'informazione, apriamo con le amministrative di giugno nel capoluogo, nel centro-sinistra continuano i sommovimenti alla candidatura ufficiale di Fabio Moschella. Adesso si contrappone quella, la vedete anche alle mie spalle, quella di Francesco Italia che ha sciolto la riserva e si candida al posto del sindaco uscente Garozzo. Sentiamo meglio nel servizio. Il vice sindaco Francesco Italia accetta la candidatura a sindaco motivandola con la decisione di grande responsabilità e coraggio con la quale il sindaco Garozzo ha scelto di rinunciare alla sua candidatura per le prossime elezioni amministrative e così ha aperto la strada un percorso difficile ma estremamente significativo. Gli incontri di questi giorni, dice Italia, l'amore per la mia città ma soprattutto i valori e i principi con cui non ho mai smesso di credere mi spingono a continuare a lavorare al fianco dei concittadini e a votare contro chi antepone il vantaggio personale al bene comune. Per il vice sindaco è necessario accettare alla sfida di una candidatura di vero servizio e che possa offrire agli elettori un'immagine semplice e concreta, inclusiva e responsabile. Per cui vuole rivolgere un appello a tutti questi ragusani che insieme vorranno raccogliere l'invito a fare la differenza. Questo passaggio politico, elettorale, importante non preclude comunque il tentativo del Partito Democratico di unificare tutte le anime. Moschella, candidato sindaco, infatti questo dovrebbe essere il lancio e la proposta che ancora regge e quindi con un Francesco Italia vice sindaco dovrebbe rinunciare alla prova di candidatura. La stessa cosa dovrebbe fare Giovanni Randazzo, un passo indietro per un assessorato. Non sarà argomento facile a trattare ma l'iniziativa è in itinere. Amministrative, elezioni amministrative al veleno perché c'è da registrare un fatto di cronaca, quello relativo all'arrivo di un proiettile, un messaggio insomma di minacce nei confronti del collaboratore della consigliera comunale Simona Princiotta è la stessa che stigmatizza quanto è avvenuto. Un proiettile inviato ad un collaboratore della consigliera comunale Simona Princiotta, inizio bollente di campagna elettorale in un clima già infuocato di suo, la consigliera intanto avverte. Non sarà questo a fermarmi. La campagna elettorale che già si delina come infuocata per vari versi, in più un proiettile inviato ad una personale vicina che lavora comunque con lei, che racconta cosa? Un proiettile inviato purtroppo ad una persona che lavora con me, che non c'entra niente, un bravo ragazzo, una famiglia per bene che hanno semplicemente scosso. Mi dispiace che questo sia accaduto perché potevano rivolgersi direttamente a me, non mi hanno intimorito facendo saltare le macchine, non mi hanno intimorito entrando a casa mia, non lo faranno neanche con un proiettile. Io vado avanti e continuo a fare il mio lavoro. Cosa significa a questo punto, quindi all'inizio della campagna elettorale effettiva, inviare un segnale di questo tipo? Significa che ci sono dei candidati che oltre a essere ominicchi sono dei delinquenti e che non sanno affrontare una sfida legittimamente e serenamente e che non devono salire in Consiglio Comunale. Per cui a maggior ragione la mia corsa per la candidatura continua. L'idea della candidatura, questo vuol dire che in qualche modo sta individuando in un ambito preciso chi potrebbe aver provocato questo parlando in questa maniera? Sì, sì, io durante l'interrogatorio col PM farò nomi e cognomi perché io ho un'idea ben precisa e chiara, poi saranno gli inquirenti a dover trovare i riscontri oggettivi. Giungono intanto alla consigliera i primi messaggi di solidarietà, come nel caso di Ezechia Paolo Reale, condanno fermamente l'atto vigliacco e criminale e invoco l'attenzione delle autorità competenti sul corretto svolgimento della campagna elettorale. Anche il coordinatore provinciale dei popolari autonomisti idea Sicilia, Peppe Germano, esprime la sua solidarietà. Simona ha condotto una campagna nel tempo che ha colpito nel segno. Il Consiglio Comunale di Siracusa non può perdere un elemento valido come è stata lei. Comunque solidarietà alla Prinzotte è arrivato un po' da ogni compagine politica e civile. Cambiamo argomento, parliamo di Siracusa Risorse che non è a rischio dopo l'annunciato default del libero consorzio in quanto è tutelata dalla legge 15 del 2015. Solo un nuovo disegno di legge potrebbe modificare lo stato delle cose. Nessun rischio corrono i lavoratori della società partecipata Siracusa Risorse nel caso in cui venisse dichiarato lo stato di default da parte della ex provincia regionale. Il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale del 4 agosto del 2015 dal titolo Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane tutela infatti i lavoratori a tempo indeterminato di tutte le società partecipate dalle ex province. In commissione regionale bilancio è stato approvato un subemendamento all'emendamento che recita. Fermo restando l'autonomia finanziaria degli enti di aria vasta sono mantenuti i rapporti in essere alla data e di entrata in vigore della presente legge tra le ex province regionali e le società interamente o prevalentemente partecipate dalle stesse per lo svolgimento dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni. Di conseguenza, commenta così l'ex parlamentare regionale Enzo Vinciullo, è chiaro che i rapporti in essere fra l'ex provincia regionale di Siracusa e la società interamente partecipata a Siracusa Risorse non possono essere messi in discussione. Ricordo che in commissione bilancio mi sono strenuamente battuto, continua Vinciullo, affinché nessuno mettesse in rischio il posto a tempo indeterminato dei lavoratori delle società partecipate, fra le quali Siracusa Risorse. Per poter mettere in discussione il futuro della società Siracusa Risorse occorre presentare e approvare un nuovo disegno di legge, una nuova norma. L'essere un ente in default non costituisce titolo per interrompere i rapporti in essere alla data di entrata in vigore dalla legge 15, cioè dal 4 agosto 2015. Intanto per il sindacato sono essenziali i tempi e i modi per il contratto dei lavoratori della partecipata. Sentiamo. Siracusa Risorse, c'è stato un incontro tra sindacato terziario e lavoratori, dirigenti per cercare di capire un po' cosa fare. Voi avete fatto delle proposte per quanto riguarda il contratto che dovrebbe essere il nuovo contratto. Ci sono delle vostre osservazioni per renderlo più potabile? Sì, noi abbiamo chiesto una rivisitazione del contratto in quanto presenta dei punti di fragilità e non può essere firmato così come è stato firmato l'anno scorso. Da premettere che ovviamente essendoci dei servizi essenziali come ad esempio il diserbo che in questo momento i lavoratori stanno sostenendo dei lavori con una programmazione direi anche inadeguata considerato che ci sono dei lavori da fare non indifferenti e quindi con dei tempi anche piuttosto lunghi e ad esempio adesso stanno facendo diserbo per quanto riguarda la corsa che sarà prevista l'8 maggio e la festa del padrono di Melilli il 4 maggio. Dice il sindacato però è una questione anche di tempi. Certo, bisogna che ci sia una giusta programmazione con i tempi giusti perché devono essere dettati in modo tale che il lavoro possa essere svolto nel migliore dei modi possibili e ovviamente si capisce anche che forse essendoci soltanto 21 lavoratori nel diserbo dovrebbe essere potenziato questo settore ovviamente nel rispetto del lavoro e dei lavoratori. Due parcheggiatori abusivi sono stati denunciati perché sprovvissi della licenza che rilascia il prefetto di Siracusa applicata per la prima volta la specifica normativa. Rischiano fino a due anni di carcere i due parcheggiatori abusivi sorpresi dai carabinieri dai vigili urbani ad esercitare nella zona archeologica della Neapolis. È stata infatti applicata per la prima volta a Siracusa la denuncia alla procura applicando l'articolo 134 del testo unico di polizia per esercizio abusivo della vigilanza. Significa che per la vigilanza delle auto, in questi casi della sosta a pagamento, i parcheggiatori hanno bisogno di una licenza che rilascia il prefetto. Il nuovo giro di vita nei confronti dei parcheggiatori abusivi è avvenuto in occasione della giornata del primo maggio, in presenza di numerosi turisti e visitatori del capoluogo. Le pattuglie dei militari dell'arma e quelli della polizia municipale hanno eseguito un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. In particolare, la loro attenzione si è soffermata nell'area della Neapolis. Il servizio rientra in un più ampio raggio di attività di controllo eseguito dai carabinieri per il ponte del primo maggio. 120 gli interventi eseguiti dalle pattuglie dei militari dell'arma, compresi tra incidenti stradali che si sono per fortuna risolti con pochi danni alle persone. Cambiamo argomento, parliamo della celebrazione del patrocino di Santa Lucia. È stato presentato questa mattina il programma dei festeggiamenti. Ecco la servizio. Festa del patrocino di Santa Lucia torna a una delle manifestazioni religiose più amate dai siracusani. Quest'anno particolare attenzione alla parola di fede e alle sue declinazioni, così come la presenza di giovani coinvolti nella flato d'amore per la santa patrona di Siracusa. Si rinnova la fede dei siracusani in una giornata particolare, molto coreografica anche. Esatto, la 372esima festa del patrocinio, che ricorda Santa Lucia, chiamata dai siracusani, risponde. E questo è il senso vero della festa. E quindi domenica 6, con la presenza dell'arcivescovo di Cefalù, si ricorderà con il lancio delle colombe il miracolo di Santa Lucia. Una festa che noi quest'anno vogliamo far tornare alla tradizione, ci sarà il concerto della banda sul sagrato, un raduno delle bande. Andremo ad approfondire alcuni temi anche legati alla storia e alla presenza di Santa Lucia qui nella nostra città, come la guida e il giro delle edicole votive. E abbiamo inserito anche la chiesa di San Martino, il politico dell'anonimo, un'opera estremamente importante, dove è raffigurata Santa Lucia. Una tradizione che si rinnova, nel senso che sono sempre più i giovani che si avvicinano a questo evento. Oltre che i giovani c'è anche il fatto che noi cerchiamo di tenere conto sempre di dare un tema alla festa che si è legato all'attualità. Una decina di giorni fa il Papa ha fatto un encilio sulla santità in cui ci ricorda che la cosa più importante è imparare a donare se stessi agli altri. E quindi Lucia, specialmente già con la sua vita, ma poi con questa festa, ci ricorda che lei si è preso sempre cura dalle altre persone e quindi ci insegna come fare. Poi la voce che letteralmente, anzi la fede che letteralmente si fa voce. Sì, io nel mio piccolo coltivo la fede cristiana e ovviamente la devozione a Santa Lucia. Nel Duomo di Siracusa abbiamo già fatto diverse volte una bellissima testimonianza di fede che è la bella passione scritta da un sacerdote cileno. Io forse ho avuto la più grande emozione della mia vita di uomo, più che di attore, quando ho recitato in Piazza Duomo dal balcone dell'Arcivescovato davanti al corpo di Santa Lucia. E in questo caso noi ripetiamo attraverso le parole di questi grandi autori e di questi grandi sacerdoti questa preghiera in forma di verbo, di parola che si manifesta. Ovviamente la nostra emittente, come ormai detta la tradizione trentennale, seguirà le varie fasi dell'uscita del simulacro, della processione e quindi del rientro poi per l'ottava in cattedrale a partire da domenica ovviamente, domenica torna a mezzogiorno, saremo già collegati. Cambiamo argomento, parliamo invece delle amministrative a Priolo, vediamo di conoscere pian piano i candidati, quattro candidati a sindaco dopo la defezione di Salvatore Bosco, due le donne, una delle due la vedete è Giusy Valenti, l'abbiamo intervistata. Giusy Valenti è una candidatura che nasce dall'incontro con altra gente che ha bisogno di superare vecchi schemi, vero? Sì, noi siamo un gruppo di cittadini organizzati e di consiglieri di opposizione e di maggioranza che hanno deciso di confluire un unico progetto con la mia candidatura. Voi avete messo nel marchio il coraggio di una scelta, perché questo coraggio? Perché noi ci stiamo presentando ai cittadini con un programma che abbiamo stilato insieme che ha raccolto le esigenze di tutti i cittadini. Parliamo di un'azione amministrativa rivolta al servizio della città che miri ad abbellirla, al decoro urbano, parliamo di un consolidamento della zona industriale e quindi di politiche legate al lavoro in modo da risolvere un po' il problema della crisi occupazionale. Parliamo anche di riportare qui lo sport, di investire sulla scuola, quindi tutte le esigenze importanti per i cittadini. Cosa si porta dietro rispetto alla precedente esperienza, quella da consigliere comunale? Mi porto il fatto di sapere come, o meglio, di aver maturato come si muove la macchina amministrativa e quindi di aver compreso come si lavora nelle amministrazioni pubbliche. Ecco perché insieme siamo riusciti a stilare questo. Termine qui il nostro telegiornale, grazie per averci seguito, alla prossima edizione, arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS